Sessore Scaiola, grande festa oggi a Imperia, anche qui il raddoppio ferroviario è finalmente in realtà? Finalmente si concretizza un lavoro che è andato avanti in tanti anni, che ha avuto anche dei ritardi ma che finalmente è arrivato alla sua completezza. Certo, noi abbiamo bisogno anche che la tratta del raddoppio ferroviario consegua la parte Andorra finale che è per noi fondamentale. Però diciamo che siamo soddisfatti, abbiamo delle stazioni importanti, riqualificate, più moderne, più accessibili, più fruibili e soprattutto il famoso doppio binario che era per noi qualcosa di fondamentale, che rendeva la parte di Ponente, ma direi la Liguria, indietro rispetto alle altre regioni. È un grosso passo in avanti, è un grosso passo verso il futuro, che ci proietta verso il futuro. La Liguria, il problema delle infrastrutture, dobbiamo risolvere, la Giunta Toti è impegnata su questo tema e stiamo andando avanti. Quindi oggi è una giornata di festa, ma non è qui finito il lavoro, il lavoro sta andando avanti, deve andare avanti. Va ricordato anche l'impegno di Claudio Scaiola? Assolutamente, l'impegno di Claudio Scaiola è stato fondamentale per la realizzazione di quest'opera, che, ripeto, volevamo che arrivasse prima, è arrivata adesso, ma siamo contenti. Però questo non ci deve far sedere, ci deve anzi tenere molto gasati, motivati per andare avanti, per portare la completezza del doppio binario, ripeto, nella tratta Andorra finale Liguria. Grazie.